Noi come Fridays for Future, movimento ecologista, antifascista e transfeminista, non possiamo accettare l'ecocritica di Meloni, che a Sharmel Sheik dice che è stato triplicato l'impegno contro la crisi climatica e parla di miliardi di dollari di investimenti. La Luzia! La Luzia! E' dove con i titoli nazionali, che badagliano dal collanto del pianeta! Voi, buttate una centrodurna di concreto, se non viate, il concreto di strada non è giusto a fuori. Questa, sempre più divisa, trappoli di serie A! La Luzia! La Luzia! Grazie a tutti.